Musica Stamattina c'è molto movimento al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma. Due classi di scuola primaria, una quinta e una terza, sono infatti ospiti della sezione didattica del Museo. Musica La quinta ha scelto un itinerario sugli etruschi e tocca a Osvaldo e a Paola guidarli fra i molti corredi esposti trovati nelle necropoli delle città etrusche scavate nelle campagne della Maremma. Musica Musica Visita termina il laboratorio dove le ragazze e i ragazzi provano a realizzare gli oggetti che hanno visto. Musica 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 Ilmi, armi, gioielli e ornamenti che portano via alla fine dell'esperienza. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.